Un avanzo di 6 milioni e mezzo di euro è il dato che spicca nel bilancio consuntivo che verrà presentato giovedì sera in Consiglio Comunale a Bassano. Una spesa corrente di 31,2 milioni, un milione in più rispetto al 2019, 3,8 milioni per trasferimenti straordinari legati al Covid, con investimenti per le attività economiche, cittadini, famiglie, associazioni, ancora 2 milioni 150 mila per interventi nella città, 1 milione 350 mila in attesa della partenza del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. In tutto questo ci si chiede quali siano i progetti, quelli veri, quelli legati a una grande città, la città dello sbandierato cambiamento di cui tanto aveva parlato nella sua campagna elettorale la sindaca Elena Pavan, finanziati nell'anno appena terminato. La risposta è proprio in quell'avanzo da capogiro, perché è chiaro che se non ci sono progetti, se non ci sono investimenti, se non ci sono idee, i soldi restano in casa, ma in ambito di un comune non è cosa positiva, per niente, soprattutto per una città come Bassano.